Tu conosci Domenico Scandella del Tomenocchio? Lui dice che la Chiesa non dovrebbe vivere nel fasto come lo fa ora. Lui dice che la Chiesa dovrebbe essere più povera. Questo mugnaio è una mente forte. È una mente che è capace. Quest'uomo deve essere stirpato. Forza, fingete! Per redimere i vostri peccati! Forza avanti! Chi è quest'uomo? Di, giuro di dire la verità! Forza avanti! 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 Forza avanti!